Ci sono 20 indagati per il drammatico crollo del ponte Morandi di Genova che lo scorso 14 agosto causò la morte di 43 persone, tra queste anche due giovani eretini fidanzati Stelle e Carlos, lei di 24 anni e lui di 27. La giovane coppia si trovava in Liguria per una vacanza. L'inchiesta era stata aperta dalla Procura della Repubblica di Genova subito dopo la tragedia. Tra gli iscritti nel registro degli indagati ci sono alcuni vertici tecnici di Autostrade per l'Italia, la concessionaria che gestiva il tratto per la responsabilità dell'ente, le accuse contestate sono disastro colposo, omicidio colposo stradale plurimo, omicidio colposo aggravato dalle violazioni delle norme antinfortunistiche. La Procura di Genova ha invece tolto il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. La svolta nelle indagini è arrivata grazie a due informative della Guardia di Finanza e della Squadra Mobile della Polizia che hanno individuato una ventina di nominativi e le loro presunte responsabilità nella drammatica vicenda. Dopo l'iscrizione nel registro degli indagati si procederà a quella richiesta al giudice per la fissazione dell'incidente probatorio che dovrebbe accertare le cause del crollo.